Giovedì 4 marzo, buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa del mattino, un commento ai giornali del giorno, giornali che trovate in Edicola, Carino Corriere Adriatico, prima il Santo, poi daremo un sguardo anche al tempo, il Santo di oggi lo vediamo subito con il cartello e San Casimiro, il sole è sordito alle 6.42 e tramonterà alle 18.03. Velocemente il bollettino della protezione civile delle Marche per oggi, giovedì 4, abbiamo detto, gelo sereno, poco luvoloso, aumento della copertura dal tardo pomeriggio, temperature in lieve aumento quelle della notte, in aumento anche le temperature massime. Per la giornata di domani, venerdì, il tempo peggiora sulla catena penninica, dal tardo pomeriggio isolati piovasche nelle zone montane che in nottata, in nottata inoltrata, si estenderanno localmente alla fascia collinare e costiera. Per sabato ancora tempo perturbato, nella mattinata avremo ancora precipitazioni sparse, prevalente carattere di rovescio, con limite delle nevicate inizialmente intorno ai 1.400 metri, ma in calo fino a 900 metri nella tarda mattinata. Fenomeno in esaurimento nel corso del pomeriggio e c'è ancora pioggia prevista per la giornata di domenica. Resto del carino, fotonotizia, edizione di Pesaro, vaccini ai giudici e alle divise, dunque comincia la profilassi per magistrati e forze dell'ordine. San Benedetto invece è un accordo storico, scoppia lì di Lio tra comune e regione, l'area suddivise in quattro, entro il 16 va presentato il progetto. Fermo Pesca, un Fermo Pesca più lungo, un'altra mazzata, un settore già in crisi, la protesta di imprese e addetti. San Bartolo invece è la lettera di un ciclista, ma nel parco noi rispettiamo i camminatori, poi Sanremo, il compositore fanese, poi il disegnatore e truccatori, i nostri a Sanremo, cioè una truppa nutrita di fanesi che in un modo o nell'altro centrano con il Festival di Sanremo. screening al via, operazioni scuole sicure, oggi si parte con le scuole medie sempre a Pesero e poi compra un PC, ma attenta di farlo pagare al comune, dipendente denunciato. Le sanzioni invece per quanto riguarda sempre il Covid, l'esercito dei multati, sono quasi 2.700 dall'inizio di questa pandemia. Poi c'è lo Sport invece, Fano troppi assenti, sul Tirol la chiude subito, il Fano dunque perde, mentre la Vis vince, è una Vis da 10 all'Oda e fa secco il Feralpi Salò. Andiamo a vedere il Corriere Adriatico invece, edizione sempre di Pesero e Urbino. La fotonotizia è per lo Sport, Brava Vis, sono 3 punti d'oro, battuta la Feralpi 2-0, Fano K.O. a Bolzano invece 3-0. La macchina dei vaccini, titolo d'apertura, task force per le forze dell'ordine e soggetti fragili, detenuti positivi in carcere, chiuse due sezioni, ma nelle marche l'indice RT supera 1, c'è il rischio della chiusura delle scuole in tutta la regione da sabato. Il Corriere Adriatico continua la sua crociata contro le marche isolate, gli industriali alla politica, dicono, promettete e dimenticate, c'è un problema di fondo che le marche non riescono a scollarsi di dosso, è quello di una divisione fra i territori. Per il San Bartolo invece, scusate, il San Benedetto, patto a tre tra Asur, Comune e Regione, sempre a Pesero, Villa Marina, IMS ci riprova ancora sfruttando i bonus, BS e Politecnica lanciano il progetto Intelligence 5.0, qui sotto invece voleva il computer a scrocco, nei guai un dipendente comunale di Mercatello sul Metauro. Intanto oggi l'addio allo scalatore precipitato sul Monte Nerone. La situazione, allora, cari telespettatori di Fano TV, la situazione nella nostra regione è la seguente. Abbiamo la regione in zona arancione, forse resterà in zona arancione anche la prossima settimana, non perché si vada verso il giallo, tutt'altro. Si spera di non diventare tutti rossi e quindi questo è quello che si auspicano anche i tecnici della nostra regione, in primis il governatore Acquaroli che sta continuando a mandare messaggi anche sul suo profilo Facebook, a corati appelli a rispettare le distanze, a mettere la mascherina, insomma a fare tutta quella profilassi che solitamente ormai conosciamo ma che non mettiamo mai in pratica perché ormai siamo da un anno qui a combattere più o meno con la pandemia, con il virus e ormai siamo stanchi. Ma la battaglia è tutt'altro che è finita, dunque il virus gira tantissimo, dice Acquaroli, gira tantissimo soprattutto in questo periodo, lo ha ripetuto ieri, dobbiamo fare di tutto per cercare di frenare questa corsa. Nel frattempo dopo quattro mesi con un indice di contagio inferiore all'1, questa mattina l'RT, l'indice di contagio sarà tra 1,05 e l'1,08, almeno stando ai calcoli degli esperti regionali. Una situazione prevedibile vista anche l'escalation dei contagi ma che non dovrebbe, il condizionale scrive Maria Teresa Bianciardi sul Corriere, è d'obbligo portare le marche in zona rossa, tutte le marche in zona rossa perché ricordiamo che l'Anconetano, la provincia di Ancona, è in zona rossa. Poi c'è un'emergenza sanitaria anche in carcere seppur sembrava che fossero abbastanza sicuri, ma insomma fino a questo momento il sistema aveva retto il sistema di prevenzione all'interno del carcere, adesso invece c'è un'emergenza sanitaria che si evidenzia già dalla fine della settimana scorsa anche all'interno del carcere. Sono sette in questo momento nelle marche detenuti positivi al Covid. Intanto le terapie intensive, un altro problema, terapie intensive ieri c'è stato un aumento dei ricoverati, gli intubati sono sette in più, allora anzi sei nuovi ricoveri, le terapie intensive sono sotto stress, aumentano i positivi anche nelle case di riposo, le marche hanno già superato la soglia limite del 30% secondo l'Aginas. Mentre l'attacco di Mangialardi, il governatore dice, raccomanda e non governa il capogruppo del Partito Democratico in Regione contro le scelte anti-Covid. Sotto invece nell'arco di una giornata registrati più di 700 ulteriori casi, cioè ieri più di 700 persone sono risultate positive nella nostra Regione. Non solo in zona rossa, le scuole a rischio chiusura in tutta la Regione da sabato, il nuovo DPCM prevede lo stop alle elezioni in caso di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, molti sindaci hanno già firmato ordinanze restrittive, 9 comuni, gli studenti dunque saranno a casa. E la situazione nelle province, per quanto riguarda le scuole chiuse, la vediamo in questo riquadro del Corriere Adriatico, a Ancona, vedete le scuole sono chiuse ad Ancona, Iese e Falconare, in provincia di Pesero sono chiuse a Frontone, Serra Sant'Abbondio, a Macerata, Cingolo e Matelica, ad Ascoli, Cupra Marittima e Comunanza. I vaccini, la questione dei vaccini, i vaccini, leggevo stamattina la prima pagina del resto del calino, quella nazionale, c'era una volta il vaccino, un po' parafrasando, c'era una volta un'America, insomma negli Stati Uniti già 78 milioni di persone sono state vaccinate, insomma nel giro di pochi mesi tutti gli Stati Uniti d'America potrebbero ritenersi fuori da questa pandemia, noi invece siamo ancora qua. I vaccini al relentatore, ancora poca iniezione al personale scolastico, da ieri somministrate le prime dose a militari, agenti, magistrati e pazienti in dialisi, per quanto riguarda gli over 80 il servizio a domicilio è assicurato per ora solo da medici inviati da Arcuri, capite ancora che è lunga la strada, è lunga, lunghissima, ma certamente non per colpa del virus. La situazione è nella regione, somministrazione per categorie, vedete il riquadro del Corriere Adriatico, ci dà subito l'idea di come, seguendo le lineette, vedete, di come stanno le cose. Sono appena iniziati i vaccini alle forze dell'ordine, infatti ancora c'è soltanto una stanghetta, un pochettino il personale scolastico sta andando bene per gli over 80, tutti soltanto gli operatori sanitari e sociosanitari sono stati completamente vaccinati. Ora tocca, scrive la pagina 3, il resto del carino, tocca magistrati, tocca i pompieri, tocca i carabinieri, insomma alle forze dell'ordine, anche se poi leggevo da qualche parte la polizia fa da sì. Più di 200 vaccinati ieri utilizzano AstraZeneca con un richiamo dopo 84 giorni. Vedete qui il richiamo è molto più in là, perché pare che più si aspetta nel senso rispetto ai 20 giorni del Pfizer-BioNTech, qui servono più giorni per il richiamo, 84 giorni. Ora però se vale la stessa regola che tra la prima somministrazione e la seconda bisogna sempre comunque stare attenti, qui ovviamente parliamo quasi tre mesi di attesa prima di avere la seconda dose e quindi in questi tre mesi bisogna stare comunque attenti. Siamo a marzo, siamo a marzo, quindi fra tre mesi, aprile, maggio, giugno, teoricamente dovremmo essere fuori. Fuori perché? Fuori perché arriva l'estate e abbiamo visto che l'estate la situazione cambia e quindi diciamo che potrebbe essere meglio. Però bisogna vaccinarsi e su questo non c'è dubbio. Ora vi segnalo anche questo riquadro sulla pagina sempre del resto del caglione di questa mattina dove Salta Martini, che è l'assessore alla sanità della Regione Marche, dice ora si faccia il vaccino ai legali, ai religiosi e ai giornalisti. Vedete anche i religiosi, come dicevo l'altra volta, quando dicevo che sarebbe il caso anche di vaccinare tutto l'esercito, tra virgolette, dei sacerdoti e quant'altro perché comunque anche loro potrebbero scendere in campo in questa guerra e portare un po' di conforto in modo sicuro, totalmente sicuro. Ora l'assessore alla sanità, leggiamo stamattina Filippo Saltavartini annuncia, ho appena inviato una lettera al Ministro Speranza per procedere con la vaccinazione degli avvocati, giornalisti e sacerdoti, religiosi in generale. Abbiamo 36 mila dosi di AstraZeneca e quindi possiamo procedere, ma il problema grave è la mancanza di dosi a sufficienza di Pfizer per i malati di tutte le età, i fragili ma anche per gli over 80 che sono a casa. Questi sono circa 10 mila. Ci stiamo impegnando per mobilitare 600 specializzandi nell'attesa di coinvolgere i medici di base. Il pediatra smonta l'effetto variante. Siamo a pagina 7 del resto del Carlino e qui Alessandro Malpelo questa mattina cerca un po', e io dico ha fatto bene, a chiarire questa situazione perché in questi giorni abbiamo letto più volte che il Covid, queste varianti, soprattutto del Covid colpisce i giovani, addirittura i bambini. Allora, cosa c'è di vero a questo punto, bisogna dire così? Che cosa c'è di vero in quello che leggiamo ogni giorno? Che cosa c'è di vero? Visto che ne leggiamo oggi, leggiamo che è rosso e domani leggiamo che è di un altro colore. Allora, vediamo. Il pediatra. Il pediatra dice, anzi, il pediatra smonta l'effetto variante. I bimbi non sono così contagiosi. Andrea Campana, primario al bambino Gesù, quindi a Roma, è responsabile Covid. Sui più piccoli, dice, circolano tante fake news, quindi tante notizie false. Allora, la domanda di Alessandro Malpelo è, le varianti sono così contagiose? La risposta del medico. Nel mondo adulto è stato dimostrato, nell'infanzia la malattia è molto lieve, spesso asintomatica. I bambini non sono così contagiosi come qualcuno vorrebbe farci intendere. Ora, questo qualcuno bisognerebbe capire per quale ragione cerca di farci intendere una cosa che poi potrebbe essere non vera. O comunque, a che titolo, perché lo dice? I casi aumentano, andiamo avanti, i casi aumentano in età evolutiva quando si abbassa la guardia, sostanzialmente fuori dalle scuole. Nel mio reparto, quindi al bambino Gesù, abbiamo riscontrato solo sporadici, riconducibili a contatti in ambito scolastico. Molto, molto più spesso viene coinvolto l'ambito familiare. Questo, cari telespettatori, lo diciamo ormai da diverso tempo. Le scuole, fondamentalmente a questi livelli, quindi le scuole medie, le scuole elementari, dove i bambini ce li immaginiamo tutti precisini, con la mascherina, a parte magari qualcuno un po' più agitato del solito, ma insomma gli altri, ecco, in questi ambienti si riesce a mantenere l'ordine e il rigore. Sono fuori, è fuori dalle scuole che c'è il problema, il problema viene fuori e soprattutto nelle famiglie. Ora, circolano tanti i ceppi diversi del virus. Dice sempre il medico del bambino Gesù, ce ne sono, ce ne sono diversi di questi ceppi e ce ne saranno sempre di più. Variante lombarda, variante campana, variante nigeriana, bresciana, ma cambia poco. Queste forme isolate, numericamente poco rappresentate, si aggiungono a quelle preponderanti, che sono arrivate anche da noi, quindi l'inglese e in misura minore la brasiliana e la sudafricana. Nella regione Lazio però nulla che abbia modificato in maniera sostanziale il quadro generale della malattia, ho mostrato una maggiore diffusività. Questo si è avuto sia per i ricoveri, sia per gli accessi al pronto soccorso. Che genere di casi osservate? Ancora chiede Malpelo. La risposta è situazioni complesse. In genere sono quadri respiratori con polmonite, molto più rare le misi, infiammazioni che possono insorgere a distanza di settimana e con tampone negativo e che a volte conducono in rianimazione. Si parla poi delle difese immunitarie, dobbiamo temere ricadute, infezioni di ritorno tra chi c'è già passato. Nessun bambino, dice tra i nostri degenti, ha avuto reinfezioni, quindi si è ammalato di nuovo. Nessuno che abbia contratto il coronavirus praticamente due volte. Ho rivisto invece bimbi guariti dal covid che si sono ripresentati per problemi di altra natura. Ad esempio, la domanda, abbiamo avuto appendiciti, peritoniti, meningiti che sono arrivate tardi in ospedale e i genitori hanno esitato troppo nel timore dei contagi. Ora, è un po' quello che succede non solo nel reparto di pediatria, nella situazione dei bambini, ma anche un po' negli adulti. Il problema che arriverà dopo la pandemia, quando saremo fuori da questa pandemia, è che ci sono una serie infinita di malattie che non sono curate, che non si stanno curando adeguatamente, che quindi ritardando nella diagnosi e anche nella cura, poi sarà un problema curare. Quindi non abbiate paura e con tutto quello che è possibile fare, sono mandate in ospedale e fate le visite che sono prescritte, che sono previste. Cerchiamo, cercate di portare avanti il percorso. Anche se poi leggevo da qualche parte stamattina che sono saltate e stanno saltando, per esempio nella zona di Alcona, gli interventi chirurgici, perché poi quando gli ospedali vanno in affanno tutto il meccanismo si blocca. Andiamo avanti con il nostro commento alla stampa del giorno. Allora, quasi 2.700 multati dall'inizio della pandemia. Qui siamo nella pagina 6 di Pesaro. I dati della Prefettura fino al novembre scorso, quelli che hanno deciso di pagare la sanzione in misura ridotta entro 60 giorni, sono il 40%. Quindi anche qui c'è un numero interessante, importante, 144.518 i controlli sulla osservazione del contagio Covid eseguite dalle forze di polizia, eccetera, eccetera, e 2.685 violazioni. Mentre 50.000, quasi 51.000, le attività o gli esercizi controllati con 95 illeciti praticamente contestati. Oggi parte l'operazione Scuole Sicure. A Pesaro il sindaco Matteo Ricci più volte ha detto di andare avanti da solo, pur avendo chiesto alla Regione di fare altrettanto questi tamponi antigenici rapidi nel resto della Regione, però non c'è stata risposta positiva. Quindi il sindaco di Pesaro è andato avanti per conto suo. Adesso tocca alle scuole medie. Alle medie i tamponi si fanno nelle palestre. Si comincia questa mattina in sei istituti, poi nel pomeriggio tocca ai docenti, al personale ATA, di nidi, infanze e primarie e domani si replica. Quindi sulla pagina invece 8 del Corriere Adriatico, cambiando argomento, il Corriere Adriatico ancora oggi torna sulla questione delle infrastrutture, delle marche che sono comunque isolate, marche che hanno bisogno davvero, si direbbe come il pane, per riprendere i contatti anche e di essere collegata con le altre realtà, le altre regioni, con l'Europa. Serve responsabilità, scrive, dice, anzi, Mauro Papalini che è Presidente di Confindustria Peso Rubino. Serve responsabilità e quando un politico si assume un impegno lo deve mantenere e quando gli viene chiesto a Mauro Papalini, come Presidente, appunto, come guida degli industriali di Peso Rubino, se crede che le marche siano condannate all'oblio, lui risponde assolutamente no. Abbiamo imprenditori con la schiena dritta abituati a fare da soli. Fare da soli è proprio questo il punto. La risposta di Papalini è sì, se le marche sono tra le regioni più manifatturiere d'Italia è perché dietro ogni saracinesca di un'azienda c'è un imprenditore che investe e che non si arrende nemmeno di fronte ad una politica che da anni si disinteressa del sistema industriale. E dunque anche gli industriali, questo è il titolo d'apertura, bacchettano appunto la politica. Da nord a sud delle marche, l'atto d'accusa degli imprenditori di questa regione, promesse mai confermate, in Parlamento hanno sempre tenuto i nostri politici, i nostri politici eletti nelle marche, hanno sempre tenuto un profilo basso, dicono i nostri imprenditori. A Fano invece la pandemia e la crisi economica sulla città crea l'effetto spopolamento. Il 2020 segnato da 782 decessi contro i 650 della media degli ultimi anni, mentre le nascite sono a picco. Era prevedibile ma i dati lo hanno confermato. Guardate in questa fotografia, qui c'è l'assessore ai servizi interni demografici, Sara Cucchiarini, poi c'è la grafica invece qua, dove vedete a colpo d'occhio come sono andate le cose a Fano 2020 e 2019. Questi sono i due anni di riferimento. I morti a Fano 782 l'anno scorso, erano 632 nel 2019. Sono nati nel 2020 410 persone, così uno soltanto di differenza del 2019, guardate la differenza, 372-223. Insomma, questa è un po' la fotografia di tutte le città italiane. L'Ariston invece, siamo nel periodo dove teoricamente si dovrebbe cantare, ma nessuno ha più voglia di cantare. L'anno scorso il festival ha fatto numeri straordinari perché eravamo tutti sul balcone a cantare, a dire che andrà tutto bene, quest'anno non ci fregate più, cari amici. E quindi qui c'è poca voglia di cantare, c'è voglia di tornare a lavorare, a lavorare con serenità, a programmare, a fare le cose che, insomma, eravamo abituati a fare. E quindi quest'anno non c'è voglia di cantare. E i dati lo dimostrano. Purtroppo il festival non sta andando bene. La prima puntata è andata così così, 8 milioni mi pare di persone soltanto, pur essendo costretti a casa, come le galline. Abbiamo scelto altro, la gente ha scelto altro, non c'ha voglia di cantare. E l'Ariston però, nella pagina di Fano, canta in fanese perché? Perché ci sono alcuni personaggi, alcuni fanesi, che in un modo o nell'altro hanno a che fare con il festival. Ci sono due persone in particolare, il compositore Francesco De Benedittis e il maestro degli effetti speciali Andrea Giomaro. Allora, De Benedittis lo vedete qua, e Giomaro invece lo vedete in questa fotografia. Andrea Giomaro, tutti e due fanno il Giro d'Italia con la partecipazione al festival. Poi, anche le lacrime di Achille Lauro nascono un po' da queste parti. Di gestore invece Reginelli, presidente di Aset, ci guardiamo intorno, dice il presidente dell'azienda fanese Aset è una realtà interessante per la produzione di rifiuti organici, sia per la qualità sia per la quantità prodotta. Alle affermazioni del numero uno di Marche Multiservizi, Daniele Tagliolini, replica il vertice della Multiservizi Fanese. Opere stradali, gli ordini piccoli sono stati tagliati fuori, contro lo strumento d'accordo quadro intervengono i professionisti della provincia. Poi accordo quadro, anche qui sulle opere stradali, l'allarme dei professionisti di settore, architetti, ingegneri, periti, geometri, geologi. Bene la semplificazione, ma il soggetto unico è a rischio. Mentre piani, idee e progetti della Carnevalesca, il comune dice sì, estanza, comune di Fano, 130 mila euro per la transizione in attesa di sconfiggere il virus. Confermate tutte le iniziative fino ad agosto. Mentre rimane bloccata nel parcheggio, chiama il sindaco per uscire, esce dall'ospedale dopo un intervento e insieme al marito resta ostaggio in un parcheggio per colpa dei furbetti della sosta. E' successo, ieri mattina in via Pizzagalli, a due passi dall'ospedale Santa Croce. Sono stata sottoposta, dice, ad un intervento di Cataratta, eccetera, eccetera, una donna di 72 anni, insomma, voleva uscire, alla fine ha chiamato il sindaco. Corinaldo trema ancora, purtroppo a rischio il Torrione. Il 16 febbraio scorso crollarono le mura, il capogruppo di minoranza dice ci sono spaccature che sembrano sempre più grandi. In questi giorni ci sono stati distaccamenti, bisogna dunque intervenire. A Serra dei Conti, crepe, buche nelle cinta muraria, per ora non c'è però da preoccuparsi. A Vallefoglia, Borghe e Natura, Occhielli, sale sui pedali, parla di cicloturismo, mapperemo cinque percorsi. Il Comune individuerà itinerari specifici da promuovere con un prossimo portale dedicato. Poi a Urbino, dalla pagina di Urbino, invece, Mercatello sul Metauro, trucchetto per pagarsi il computer, un dipendente comunale denunciato. L'uomo lavora sul Mercatello, aveva coinvolto un'azienda fornitrice, il PC sarebbe pesato però sulle tasche del lente. Sempre a Mercatello del Metauro, sul Metauro barista serve da bere ed esplode i fuochi, telecamere, video e residenti con la loro testimonianza hanno fatto scattare poi la multa. Guardate queste, invece qui le immagini sono tutt'altro che da multa, sono fototrappole, si chiamano così, ma servono per immortalare ciò che succede di notte, soprattutto nei campi, nei boschi. E dalla pagina del Val Metauro, da Colli al Metauro, ecco le immagini di questa vita notturna dei boschi. Le fototrappole per raccontare il reportage di Mattioli, pizzaiolo con la passione per gli animali, tra le Cesane e il Monte Nerone. Ancora dai quotidiani, dalle pagine interne, Val Cesano, Frontone e Serra prolungano la chiusura di due asili nido, contagi in crescita a Frontone, ma l'obiettivo è accertare la negatività di bimbi e personale. Poi sotto, nuova fermata dell'autobus, conclusi i lavori a Marotta, disegnata la segnaletica orizzontale, ora cantieri in altre vie della città. Da Senigallia la variante inglese, trovata nel 50% dei positivi, aumentano i contagi nel senigallese, ma le scuole primarie rimangono aperte. In città ci sono 415 contagiati, le medie fagnani sono l'unico istituto chiuso per decisione della preside. Sempre da Senigallia il ragazzo aggredito, condannato il buttafuori alla discoteca Megà di Senigallia, quasi sei anni fa, con il bicchiere di vetro, dice non puoi uscire e gli ruppe un dito. La VL ora è da brividi, ma domenica si gioca, lunedì infatti il vice Calbini aveva la febbre, ma il tampone è risultato negativo, altrimenti la società avrebbe potuto chiedere il rinvio del match. Il Fano, il Fano va tutto storto, a Bolzano granata a travolti, senza attenuanti, il Suttirol si rivela un ostacolo insormontabile, Suttirol che batte il Fano in casa del Suttirol 3-0, la situazione di classifica resta critica e i tanti impegni ravvicinati preoccupano non poco. Dobbiamo guardare avanti, dice l'allenatore del Fano destro, che archivia la sconfitta. Il vice invece esulta, perché ha vinto 2-0 in casa contro il Feral Pisanò, i biancorossi sfornano la prestazione più importante della stagione, Cannavo e Ferrari firmano un successo che proietta la squadra di Didonato fuori dai play-out. E tutti dicono, dice anzi un raggiante mister Didonato, uniti verso la salvezza. E questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata e vi ricordo che questa sera alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.